ah cazzo la sinistra questa non la sento più è morta è morta non so se ce l'ho ancora qua ragazzi doppio aia uno perché finisce la strada e inizia l'avvicinamento e due perché non siamo i soli è parcheggiato siamo quasi il ritmo è abbastanza serrato perché abbiamo degli spagnoli dietro non possiamo farci fregare c'è già gente davanti a noi e quindi ragazzi anche oggi è gara ragazzi per chi non lo sapesse lui e bacio che dal parcheggio ha deciso di partire con doppia calzamaglia più pantalone e adesso è su da mars quant'è che c'era giù al parcheggio? meno 13 step in quando vuoi mola tutto vieni pure grande bacio stiamo andando bene il meno è fatto tutti a rovescio tutti a rovescio ma scusa allora non ho capito fanno schifo i tuoi moschittoni non fanno schifo basta gestire l'attrezzatura sul materiale vedi ad esempio quello che hai appena messo al contrario ma non si capisce sono tutti rovinati da ambo le parti guarda allora questo qui è un mio rinvio guarda si capisce benissimo quale parte deve stare a suo imbrago e quale no qua ce n'è uno del 15 18 questo qui stai da dove arriva? l'avrei trovato in qualche falesia sicuro è il regalino di seus questo vediti grivel media è la mia bella una sosta su una bala che c'era già più gli ho messo un chiodino una sosta di diverso insomma ah dai vai dai vai tiro duro quinto tiro verticale secondo me è una scala grande steppan grande bacio prima cascata di stagione via cado spinto più l'ho puttana ti ha spaccato il polistirolo ma brutalmente super miracolo penso che stia su perché c'è il cosalago però si aprirebbe tipo una mela non è una scala di stagione